So che hai in mente una o più aziende del tuo settore che sarebbero perfette per sponsorizzare il tuo canale, magari creano prodotti che ti piacciono tantissimo e che piacerebbero anche al tuo pubblico. Ma come fare a contattare un'azienda per richiedere prodotti gratis o addirittura una vera e propria sponsorizzazione, soprattutto se abbiamo un canale piuttosto piccolo? Nel video di oggi ti do qualche dritta per approcciare potenziali sponsor senza fare errori di cui potresti pentirti in futuro. Se sei ancora nel periodo in cui nessuna azienda ti sta contattando attivamente per proporti una collaborazione, fallo tu senza nessun problema, hai tutti gli strumenti per selezionare un partner e formulare una proposta. Partiamo dalla scelta dell'azienda da contattare per proporre una collaborazione, intanto ovviamente si dovrebbe trattare di un'azienda del tuo settore. Ricorda però che lo scopo finale non è trovare un'azienda di cui tu vorresti i prodotti gratis, ma è trovare un'azienda di cui i tuoi follower comprerebbero i prodotti. Spesso le due cose potrebbero coincidere, ma se non dovessero coincidere la collaborazione non avrà futuro. Scegli un'azienda che sia facile da contattare, quindi magari non partire da una multinazionale in cui non si capisce neanche chi è il referente. Parti scegliendo un'azienda italiana o estera di dimensioni ridotte, in cui ad esempio è facile trovare online il contatto del responsabile marketing. Il metodo migliore per contattare un potenziale partner è la buona vecchia email. L'unico caso in cui potresti decidere di contattarli prima via social, magari selezionando la piattaforma su cui li vedi più attivi, è quella di chiedere proprio quale sia il contatto giusto per questo tipo di richieste. Non mandare direttamente la proposta di collaborazione attraverso i social, innanzitutto perché è poco professionale e poi perché non sei sicuro di chi la leggerà. Quando hai trovato il contatto giusto del responsabile marketing, pubbliche relazioni o comunicazione, puoi impostare la tua mail. Veniamo dunque al problema principale, cosa scrivere all'interno di questa mail, soprattutto se abbiamo un canale abbastanza piccolo, i cui numeri non sono impressionanti. Sicuramente i numeri sono importanti e soprattutto non si possono nascondere, quindi ha comunque senso allegare alla mail un media kit in cui riassumi i risultati principali del tuo canale, ad esempio in termini di iscritti, visualizzazioni e commenti. Se vuoi sapere esattamente come creare e cosa inserire in un media kit, ho creato un video apposito di cui ti lascio il link in alto e in descrizione. All'interno del corpo della mail però non sottolineerei tanto i tuoi numeri, quanto il potenziale vantaggio per il partner. Puoi dunque descrivere i contenuti che crei, ma soprattutto le caratteristiche del tuo pubblico, che si spera essere molto simile a quello dell'azienda. Quello che interessa realmente all'azienda è trovare persone che comprino i loro prodotti, quindi quello che stai offrendo tu in realtà non è il tuo canale, non sono i tuoi contenuti, tu stai offrendo il tuo pubblico. Non vedere questa cosa solo in negativo perché ovviamente allo stesso tempo offrirai al tuo pubblico la possibilità di avere accesso, di acquistare dei prodotti che sono chiaramente utili e interessanti per loro. Per chiudere la mail devi infine inserire la tua proposta. Sii molto esplicito su quello che stai chiedendo all'azienda e su quello che farai con i prodotti che l'azienda ti darà. Ad esempio potresti chiedere un prodotto gratis il cui scopo è realizzare una video recensione sul tuo canale, oppure potresti chiedere un prodotto gratis e del budget il cui scopo è realizzare una video recensione, un video tutorial e magari dei post sui tuoi altri social. Contattare uno sponsor è un argomento insidioso e soprattutto se sei alle prime armi rischi di fare degli errori a cui poi è difficile rimediare. Ti spiego dunque come secondo me puoi evitare alcuni degli errori più comuni. È importantissimo non svendersi. Spesso pensiamo che abbiamo un canale troppo piccolo per essere interessante e allora offriamo tutto quello che possiamo offrire. Magari semplicemente in cambio di un prodotto gratis che nessuno ci ha neanche mai dato, mettiamo sul piatto un video YouTube, un post Facebook, una stories di Instagram, una menzione sul community tab eccetera eccetera eccetera. In questo caso i problemi sono due, intanto ci dimostriamo poco professionali e diamo l'impressione di non saper dare il valore giusto al nostro lavoro. In secondo luogo se adesso offriamo tutto gratis, come faremo in futuro a farci pagare? Non saremmo credibili e ci ritroveremo ingabbiati in una collaborazione poco fruttuosa. Ho suggerito di inserire all'interno della mail una proposta molto precisa di quello che chiedi e quello che offri in cambio, perché non bisogna lasciare al partner la libertà di scegliere. Mi raccomando non scrivere mai una mail del tipo mi piacerebbe collaborare con voi, possiamo fare qualcosa insieme? Anche qui il problema è duplice, innanzitutto se lasci all'azienda la fatica di pensare a una proposta probabilmente non lo farà, sono impegnatissimi, hanno altro a cui pensare e la tua mail probabilmente non riceverà risposta. In secondo luogo se lasci a loro l'incombenza di formulare una proposta probabilmente ti proporranno qualcosa che è conveniente per loro ma non necessariamente per te. Se non hai ancora mai contattato nessuna azienda scrivimi nei commenti cosa ti blocca, che preoccupazioni hai, se non troverai la risposta all'interno di questo video cercherò di risponderti appena possibile. Ora passiamo a vedere quali sono i rischi se ce ne sono nel contattare un'azienda. Se pensi che contattando un'azienda qualcosa possa andare storto, in realtà non c'è praticamente nulla che possa andare storto, non c'è nessuna situazione in cui potrebbe cascare il mondo. Ti spiego esattamente perché non dovresti farti bloccare da queste comuni paure. Se pensi che la tua proposta economica sia troppo alta o che magari l'azienda non voglia neanche darti un prodotto gratis, male che vada l'azienda ti dirà di no, oppure potrebbe chiederti di riformulare la proposta. Ma anche se l'accordo non dovesse andare a buon fine ci sono migliaia di altri potenziali partner che potrai contattare e perlomeno avrai ricevuto delle informazioni utili sui prezzi di mercato o su come ragionano le aziende. Sono tutte informazioni che ti serviranno per rendere più efficace il prossimo contatto. Se hai paura che il tuo pubblico non sia abbastanza ampio per interessare a un'azienda, considera che ci sono anche aziende medio piccole che non hanno budget per investire in un grande influencer, ma che lavorerebbero volentieri con uno youtuber medio piccolo. L'importante è che abbia un pubblico esattamente identico a quello dell'azienda. Se hai paura a chiedere dei soldi perché già il prodotto che ti è stato dato gratis è molto costoso, considera che in realtà un prodotto all'azienda costa molto meno del suo prezzo di mercato. Inoltre più è costoso un prodotto meno copie dovrai venderne per poter far rientrare l'azienda dei costi. Se hai paura di non portare traffico o vendite all'azienda questo è possibile ovviamente ma non lo saprai mai se non provi. L'azienda farà tutte le verifiche del caso e se non riterrà fruttuosa la collaborazione magari la interromperà, ma tu non devi sentirti in colpa come se gli avessi fatto perdere dei soldi. Intanto gli avrai fatto della pubblicità e il tuo video su youtube rimarrà lì per sempre, potenzialmente portando traffico e vendite magari non sul breve periodo ma sul medio lungo periodo. A questo proposito chiedi sempre all'azienda di avere un link tracciato per sapere quanti click ci sono stati sul link del sito dell'azienda e di poter vedere un report sulle vendite per sapere se la tua attività ha portato effettivamente qualche frutto. Questo serve anche a te per sapere esattamente quanto vale il tuo lavoro e per far funzionare meglio le prossime collaborazioni. Quando ti proponi per una collaborazione devi essere il più professionale possibile, devi avere fiducia in te e devi mostrare che sai esattamente cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Lo strumento che ti può aiutare a comunicare tutte queste cose è il media kit, un documento che devi assolutamente preparare se intendi proporti a delle aziende e a questo proposito ti consiglio di guardare subito il mio video su come scrivere un media kit perfetto. Alla prossima!